Sotto l'albero di Natale gli aquilani troveranno quest'anno anche un pacco vuoto, è il decreto mille proroghe nel quale non c'è traccia dell'attesa di l'azione del pagamento delle tasse non versate, per le quali c'è solo una rateizzazione a partire da gennaio di 60 mesi. Pacco vuoto dunque, aria fritta e rifritta, che ha provocato sacrosante reazioni nella nostra città a tutti i livelli, regionale, provinciale, comunale e a livello degli stessi parlamentari aquilani. In un colpo solo viene vanificata ogni speranza e la stessa parola di Berlusconi diventa lettera morta, promessa da marinaio. Il capo del governo lo aveva promesso chiaramente gli aquilani avranno lo stesso trattamento dei terremotati dell'Umbria e delle Marche, ma quando si è stati al dunque questo trattamento si è rivelato un'autentica batosta tra capo e collo, come si dice all'Aquila, peggiore forse della batosta del sisma che almeno non era premeditata a sangue freddo come questa del pacco vuoto. Evidentemente Berlusconi conta ormai meno di Tremonti. Se vogliamo dirla tutta si tratta di un vero e proprio sfregio, altro che gli sfregi di cui si ciancia in questi giorni per il trattamento che viene riservato da alcuni alle ministre belle del governo. Le proroghe tenute sino ad oggi erano venute con il contagocce di mese in mese, quasi per tenerci buoni con questa spada di Damocle sospesa sulla testa. Da questo si prevedeva già il peggio che è arrivato puntualmente. Noi aquilani non siamo mai contenti di nulla ed eccoci serviti a puntino e in bella maniera con un pacco di Natale sotto l'albero. Un pacco vuoto appunto ma colorato di promesse non mantenute. Oggi il governatore Chiodi si fioccherà di nuovo a Roma per salvare l'irreparabile. Il fatto è che si battono tutte le vie meno che quelle che potrebbero sortire effetto. A governo Patrigno spetta una risposta unica e univoca di missioni in blocco del sindaco dell'Aquila, del presidente della provincia, del presidente della regione e poi via via dei componenti di tutte le assemblee e degli stessi nostri parlamentari. Ma si avrà il coraggio di farlo? Ne dubitiamo. E allora non resta che pagare.